La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, in un esercizio commerciale di Arzano, gestito da un cittadino di origine cinese, oltre 139.000 mascherine sprovviste dal marchio CE, pronte per essere messe in vendita. In particolare, i finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano hanno individuato, all'interno di un grosso imprenditore di Arzano, oltre 139.000 dispositivi di protezione individuale, tra mascherine spacciate per chirurgiche e KN95, anche con filtro. Tutti i prodotti erano privi di documentazione attestante le caratteristiche protettive e delle autorizzazioni per l'importazione. Ben 8.000 di questi erano destinati a bambini. Posti sotto sequestro anche 200 pseudovisiere protettive e 15 trattemometri e pistole termoscanner, sprovvisti di certificazione di conformità. La vendita dei prodotti, al dettaglio, avrebbe potuto fruttare al venditore circa 120.000 euro. L'attività di servizio testimone il costante impegno della Guardia di Finanza di Napoli nel contrasto agli illeciti nel settore della sicurezza dei prodotti, finalizzato alla tutela dell'economia legale e della salute dei consumatori.